ciao ragazzi bentornati per parlare della svalutazione degli smartphone un argomento che farà sicuramente molto piacere a chi vende spesso e ricompra poi telefoni per avere sempre poi magari i modelli nuovi ma come funziona la svalutazione di un telefono in base a quali criteri modello fascia di gamma marca tipologie di funzioni hardware e tecniche che ha il dispositivo che può essere un tablet uno smartphone insomma anche una televisione ma anche una console qualsiasi prodotto comunque tecnologico ha una sua svalutazione qua stiamo parlando però come preta ovviamente degli smartphone della loro svalutazione quali sono quelli che tengono di più il mercato quali meno ma qua poi sono dati veramente indicativi diciamo che tutto sommato lo smartphone non è un investimento diciamo sul quale noi possiamo fare l'affidamento di recuperare tantissimo valore perché essendo cene tantissimi modelli sempre nuovi che escono tende a svalutarsi subito molto velocemente anche con vendita online anche sul nuovo quindi non è comunque una cosa che ha un valore che rimane nel tempo elevato no tende a svalutarsi velocemente essere venduto online a meno i più fortunati marchi riescono a portare in un anno nel giro di un anno ancora quando il dispositivo ha compiuto diciamo la notità un valore discreto appena sotto la metà del prezzo è già una buona valutazione e questo perché è perché come vi ho detto escono tantissimi modelli perché le case hanno interesse che voi compriate il modello nuovo perché se no se tenesse mercato oltre misura non si spenderebbe tanti soldi di differenza per acquistare non si sarebbe invogliati a cambiarlo eccetera eccetera e quindi chiaramente è tutto un gioco economico commerciale diciamo no di marketing che fanno anche le case per tenere un po in piedi questa questa questo mercato questa valutazione degli smartphone quindi tendono a calare rapidamente e qualcuno magari ogni tanto si chiede ma come mai esce un prezzo di listino nei negozi diciamo nelle catene fisiche poi online lo trovo a molto meno ma e guardate che sono le stesse case produttrici che vendono al negozio fisico il telefono a 999 euro e dopo se lo trovate a 699 un mese dopo online sono sempre loro la differenza sta nel nel marketing nel commerciale perché vendono a 999 euro è il listino che dà l'importanza del prezzo al dispositivo soprattutto va a prendere quella fascia di persone che lo vanno a prendere lì e spendono di più danno più introite sia al negozio fisico stesso che alla casa produttrice chiaramente il negozio fisico ha un po più di costi perché comunque un tramite tra i due tra la casa produttrice del negozio e il cliente finale quindi c'è un costo leggermente più elevato online ha delle spese inferiori viene venduto e consegnato direttamente quindi ci si può anche fare un prezzo diverso al al venditore che lo fa online quindi ecco perché qua c'è il calo di prezzo all'estero gli sdoganamenti sono a prezzo inferiore i costi sono inferiori e quindi si riescono a trovare dei venditori con le versioni europee che sono poi uguali a quelli italiani a prezzi già che si abbassano questo cosa mi fa capire che la produzione il costo di produzione di uno smartphone non è elevatissimo c'è pensate che un iphone x ci vogliono 400 euro circa per per assemblarlo 500 600 massimo e venne venduto a 1400 1200 cioè capite che realizza sempre il 150 200 per cento del del prezzo del telefono chiaramente ogni dispositivo che costa facciamo un esempio 1000 euro a produrlo ci vogliono 400 euro quindi sotto 50 per cento in meno del costo effettivo quindi viene venduto sempre a più del doppio del prezzo in poche parole minimo il doppio minimo doppio quindi questo è poi in questo in tutto questo bailame vengono fuori quella svalutazione in quanto la svalutazione perché l'anno dopo c'è già dopo 8 mesi il modello nuovo pronto che esce e di conseguenza questo porta anche un rapido calo del dispositivo precedente anche perché viene viene venduto molto velocemente nei mesi quindi appena sta uscendo il modello nuovo tutti che incominciano a vendere il modello precedente questo perde di valore capite è proprio così i dispositivi che tengono più valore ovviamente sono quelli più ricercati sul mercato che riescono un po no sia per il prezzo più elevato di partenza sia un po per il brand tipo apple tipo samsung insomma i brand più conosciuti tengono più valore chiaramente c'è anche da dire che ci sono brand conosciuti che non hanno la stessa forza economica nel tempo di valutazione dell'usato che hanno questi due esempio non so huawei perde più valore di loro lg perde più valore di loro sony è una via di mezzo nelle tecnologie in generale tiene molto valore come apple ma sui telefoni si svalita un po di più di quei due lì insomma le altre case produttrici non riescono sicuramente wiko e possiamo citarne tantissime altre anche one plus one o i mezzi xiaomi comunque non riescono a tenere il valore che comunque un iphone sicuramente anche per voi del costo più elevato o un samsung che comunque pur calando anche online però dopo un anno rispetto all'inizio samsung riesce sempre a tenere almeno la metà poco meno della metà sono un s8 pagato non so 900 euro sicuramente dopo un anno 400 euro ancora 350 si riescono a realizzare una volta non c'erano queste possibilità un iphone invece diciamo che oltre anche la metà del prezzo con iphone mille prendiamo l'esempio di un iphone x che costa 1280 euro oggi 1200 euro tra un anno sicuramente sicuramente 600 euro 500 euro lì e si recuperano quindi una metà dopo un anno intendo dopo due un 400 euro ancora quindi una metà del prezzo ma è tanto se considerati un anno perdere la metà dell'investimento in un valore c'è da 1200 a 600 euro secondo me comunque è una svalutazione abbastanza rapida però queste queste case riescono a tenere un po' anche perché non il brand è più ricercato il telefono ma comunque è più ricercato ma un po meno magari di quelli che costano meno che vanno via più come il pane no per dire quindi c'è un gioco diciamo di domanda e offerta no questi due dispositivi sono tantissimo venduti sia per dire s8 che iphone hanno un valore più alto di vendita ma riescono un pochino a tenere di più perché hanno questo brand che è un po più importante no sono un po più ricercati gli altri per esempio un g6 ce ne sono tantissimi viene venduto con più facilità e di conseguenza viene visto come un brand leggermente con meno appeal dal cliente anche se sono telefoni eccezionali tutto con la colletta e quindi che lento già costa 400 euro adesso si svaluta anche di più nella vendita al nuovo però pagato 800 prenderete l'anno dopo massimo 250 euro cioè capite 300 euro ma già di partenza va subito una svalutazione più alta quindi lo trovate a 400 recuperi 250 sei contento chiaramente è sempre la fascia di quello che andate a spendere quindi lo smartphone ormai e tutti i prodotti tecnologici tecnologici scusate tablet eccetera sono un investimento a breve termine nel senso lo compro dopo sei mesi lo rivendo lo compro dopo massimo un anno lo rivendo fanno gli abbonamenti che dopo dieci mesi un anno potete restituire il modello aggiungendo una differenza come darlo dentro usato e fare come non capita anche a me guardi vendere il modello che ho per mettere una differenza di quel tipo e comprare un altro capite quindi è un investimento a breve termine con una svalutazione molto veloce abbastanza importante non si riesce a tenere mai massimo la metà del valore quei due brand che ho detto sono anche meno entro l'anno di vita quindi non è sicuramente un investimento economico dove si possa recuperare soldi e cercare con il recupero del modello dell'anno prima di comprarne uno intero nuovo perché se pensate ad esempio iphone x 1200 l'anno dopo 600 il nuovo iphone costa 1300 dovete mettere 700 euro cioè quindi non arriverete mai a coprire una piccola differenza no nel vendere il modello il modello precedente e quindi sicuramente sono un investimento gli smartphone o i prodotti tecnologici tecnologici se li tenete in uso nel tempo vuol dire se io mantengo in uso uno smartphone un tablet o un prodotto tecnologico anni allora ho fatto un investimento per un prodotto che ho pagato una volta sola una cifra medio alto bassa ma mi è durato quattro cinque anni ha fatto il suo utilizzo mi è andato benissimo ho fatto gli aggiornamenti finché ho voluto fa il suo uso per dire io non è un 6s plus che ha più di due anni va alla grande quelli sono soldi è un investimento che nel tempo sta continuando a non farmi spendere a darmi un servizio un servizio un servizio chiaramente dipende anche quanto lo tenete quanto quel dispositivo tiene bene hardware no aggiornamenti è al passo coi tempi per tre anni avete fatto un investimento per tre anni dopo tre anni potete comunque vendono recuperando comunque qualcosa quella è la cosa migliore forse per riuscire a star dentro perché se dopo tre anni vendi un telefono che hai pagato mille euro ne recuperi 300 200 però l'hai usato tre anni tre anni sono tanti un servizio non hai speso soldi per tre anni anche se aggiungi 500 euro in più per un altro è come averne speso 200 all'anno capite quello è l'investimento giusto tenerlo di più venderlo e poi comprarne un altro quando magari già un caldo di prezzo ma il giro dei sei mesi 12 mesi è sempre un investimento per il nostro piacere di appassionati ma non sicuramente per piacere economico per quattro che usate per 4k i tech paolo uguale era tutto ciao e grazie come sempre alle prossime